Buongiorno ragazzi, in questo video svolgiamo un integrale di una funzione razionale fratta e in particolare svolgiamo l'integrale da 3 a 4 di 2x meno 1 fratto x quadro meno 4x più 4 in dx. L'idea di svolgimento è quello di andare a decomporre la funzione in fratti semplici in modo da trovare dei facili termini da integrare. Si parte dalla scomposizione del denominatore e quindi andiamo a studiare x quadro meno 4x più 4. È chiaro che subito ci appare evidente che x quadro meno 4x più 4 è un quadrato perfetto e in particolare il quadrato di x meno 2. In ogni caso se andate a svolgere il conto tramite la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado trovate 4 più o meno la radice di 0 fratto 2 che vi siamo quindi effettivamente nel caso del delta nullo. Questo denominatore si va quindi a scomporre come detto come x quadro meno 4x più 4 uguale a x meno 2 alla seconda. A questo punto posso passare alla decomposizione in fratti semplici andando a impostare che la funzione che stiamo considerando 2x meno 1 fratto x meno 2 al quadrato possa essere decomposta come a fratto x meno 2 più b fratto x meno 2 al quadrato in cui a e b sono due parametri reali da determinare. Svolgiamo quindi questa somma otteniamo a per x meno 2 e quindi ax meno 2a più b più b tutto fratto x meno 2 al quadrato. A questo punto dobbiamo richiedere che questo numeratore a x meno 2a più b sia uguale a 2x meno 1. Impostiamo quindi il sistema in cui richiediamo che a sia uguale a 2. Vedete? L'unico termine dipendente da x. Meno 2a più b deve invece essere uguale a meno 1. Svolgiamo questo facile sistema per sostituzione andando a riportare questo 2 al posto della a nella seconda equazione. Meno 4 più b uguale a meno 1 da cui b uguale a 3. Le due soluzioni sono quindi a uguale a 2 e b uguale a 3. Le riportiamo nella nostra decomposizione. A questo punto possiamo procedere con l'integrazione e andiamo a svolgere l'integrale tra 3 e 4 di 2 fratto x meno 2 più 3 fratto x meno 2 al quadrato, tutto in dx. Otteniamo, svolgendo questi integrali immediati, 2 logaritmo del valore assoluto di x meno 2 nel momento in cui andiamo a integrare 2 fratto x meno 2. Otteniamo poi meno 3 fratto x meno 2 quando andiamo a cercare la primitiva di 3 fratto x meno 2 al quadrato. Questo passaggio in particolare ci viene direttamente dal calcolo delle primitive dei casi di tipo x alla n in cui considerate, vedete, l'esponente n uguale a meno 2. A questo punto posso andare a concludere questo integrale ricordandomi che stiamo calcolando tutto tra 3 e 4. Andiamo quindi a sostituire il 4 e il 3 all'interno della funzione che abbiamo appena calcolato svolgendo f di 4 meno f di 3. Otteniamo 2 logaritmo di 2 meno 3 mezzi quando andiamo a sostituire il 4 meno 2 logaritmo di 1 più 3 quando andiamo invece a sostituire il valore 3. Ricordandoci che logaritmo di 1 è uguale a 0 otteniamo come risultato finale 2 logaritmo di 2 più 3 mezzi. Abbiamo svolto, vedete, 3 meno 3 mezzi. Questo conclude l'esercizio e conclude anche questo video che spero vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a capire come calcolare le primitive nel caso in cui il denominatore della funzione razionale fratta abbia un delta uguale a 0. Continuate a seguire i video di questo canale e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. A presto!